Ciao a tutti, benvenuti al Far East Film Festival di Udine, il festival dedicato al cinema popolare asiatico. Il Far East Film Festival si svolge a Udine da circa 18 anni, in nove giorni la tendenza, la missione del festival è mostrare quali sono i film che hanno successo nel loro paese di origine. In centro città vengono ospitate una serie di attività che mostrano, fanno assaggiare quelle che sono le discipline dell'Oriente e si va dal cibo, degustazioni, prove culinarie, alle arti marziali con performance, dimostrazioni, al wellness, tutto dedicato all'Oriente, fino addirittura a un cosplay contest che è una gara di costumi molto seguita che normalmente si svolge la prima domenica del festival. Noi vi salutiamo dal Far East Film Festival, vi aspettiamo per le prossime edizioni, ogni anno ci inventiamo qualcosa di nuovo, quindi siete benvenuti, vi aspettiamo a Udine.